Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, porca, 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 nel video di oggi ho davvero delle informazioni interessantissime per tutti voi. Mamma mia ragazzi! Parleremo proprio oggi se per caso andassero. Ah, funzionano, ma non ci sono. Della Coppa del Mondo di Fortnite. Se ne è parlato per la prima volta pochissime ore fa ragazzi. E ci sono delle informazioni assurde. Premi in denaro assurdi per veramente tantissime persone. Ne parleremo nel video. Ovviamente c'è anche una sezione relativa alle terremoto news che non possono mancare. Ma nella giornata di ieri c'è stata una bella cosa fatta da Epic Games. Lo fanno ogni tanto. Hanno aperto su Reddit una sezione dove poter domandare direttamente quello che si vuole. Ovviamente con una certa coerenza allo staff e ottenere risposta. Vi farò vedere ragazzi due o tre risposte che sono molto interessanti. Ovviamente relative alla stagione numero 8. Voglio ringraziarvi come sempre tantissimo per supportarmi con il mio codice creator. Xiu Derone. Grazie a tutti quelli che lo fanno. Taggatemi su Instagram nelle storie. Se scioppazzate di prepotenza iscrivetevi al canale mi raccomando. E se la trovo attivate la campanella per non perdere nessuna news e nessuna delle mie live. Ma prima ragazzi la domandina. La domandina ve la devo fare ragazzi. È una domanda molto semplice. I vostri commenti proprio qua sotto. Ci tengo a sapere il vostro punto di vista. Come ti sembrano i sommozzatori? Porca vacca ieri. Ragazzi sono arrivate le skin dei sommozzatori. Un set che a parer mio è stupendo. I colori mi piacciono tantissimo. Lo stile mi piace tantissimo. E anche le skin non sono affatto male. Anche il piccone è veramente meraviglioso. Voi le avete scioppate? Vi piacciono? Scrivetemelo qua sotto nei commenti che sono troppo curioso di saperlo. Ma quindi ciancio alle bande e banda alle ciance andiamo subito subito a parlare molto velocemente di una cosa che dovete assolutamente ricordarvi. So che lo avete fatto sicuramente ma se ci fosse ancora qualcuno che non ha sbloccato tutte le fasi del prigioniero ragazzi fatelo proprio entro la fine di questa season. Non sarà più possibile sbloccare le fasi del prigioniero nella season 8. Quindi mi raccomando ragazzi eh. L'avete fatto sicuramente ma se ancora non lo avete fatto ricordatevi. Andiamo avanti e parliamo della Fortnite World Cup ragazzi. La Coppa del Mondo di Fortnite che inizierà con precisione il 13 aprile ed andrà avanti fino al 16 giugno. Una competizione assurda ragazzi con un monte premi che se ve lo dico non ci credete. 100 milioni di dollari. L'avevano detto ragazzi lo avevano detto ed è la terza serie delle competizioni di Fortnite. La Fortnite World Cup ragazzi è una cosa incredibile dove ci saranno si aprirà questa competizione con 10 open di qualificazioni a settimana. Quindi 10 tornei settimanali per la qualificazione alla fase successiva che si svolgeranno ovviamente online dal 13 aprile al 16 giugno. Abbiamo davvero tantissimo tempo per provarci. Ogni settimana fra tutti i giocatori di Fortnite saranno comunque messi in palio un milione di dollari. Ogni settimana un milione di dollari che verranno distribuiti a un bel po' di partecipanti. I migliori 100 giocatori in singolo e le migliori 50 coppie in tutto il mondo andranno direttamente alla finale della Coppa del Mondo che si svolgerà tra il 26 e il 28 luglio a New York. Assurdo ragazzi. Un premio totale di 30 milioni di dollari in questi due giorni. Ciascun giocatore partecipante avrà una vincita di 50 mila dollari garantita. Cioè se andate alle finali di New York 50 mila dollari anche se non fate niente sono per voi. Il campione di singolo, quindi il campione del mondo di Fortnite, si porta via 3 milioni di dollari. Assurdo ragazzi. Assurdo. Ci saranno un sacco di tornei anche per chi non gioca la battaglia reale ma preferisce le modalità a tempo limitato. Assurdi. Ci saranno ragazzi comunque dal 13 aprile fino a fine anno di quest'anno un milione di dollari ogni settimana come monte premi per tutti i giocatori che parteciperanno ai tornei. Anche se non arriverete a partecipare alla finale di New York ragazzi. Ci saranno un sacco di modalità che potremo affrontare ovviamente tutto a qualificazione e distribuiranno come avevano già detto l'anno scorso non so se vi ricordate il mio video che avrebbero speso per il 2019 100 milioni di dollari e così stanno davvero facendo. Soldi li hanno spesi per il Summer Skirmish poi li hanno spesi per il Secret Skirmish e adesso li spendono per la World Cup. Assurdo ragazzi. Mi raccomando ovviamente tutte le informazioni che ci sono io vi terrò aggiornati. Quindi come voi non vedo l'ora di partecipare perché no agli eventi di qualificazione e quindi ragazzi di provare l'ebrezza, di tentarci e se non fosse per la finale almeno per portarci a casa qualcosa di monte premi nelle sfide settimanali. State attenti perché l'argomento è super interessante. Ma andiamo avanti e parliamo ragazzi di un altro argomento che sicuramente farà piacere a molti. Devo dire mi sta cominciando a far piacere anche a me. Ho una conferma ragazzi. Nella stagione 8 ci dicono direttamente da Reddit alcuni membri dello staff di Epic Games i nostri X-Bow quindi gli aeroplani verranno tolti. Non ci saranno più gli aeroplani nella stagione 8. Quindi mi raccomando. Loro dicono godetevi il vostro tempo in aria per questi ultimi giorni e perché ragazzi stanno lavorando su un nuovo veicolo monoposto o forse che si possa utilizzare massimo in due. Non è che... cioè se non sono aeroplani, non è il driftboard, non sono le macchinine perché comunque ci abbiamo già il quad e ci abbiamo già il caddy. Quindi è molto probabile che possa essere un veicolo acquatico ragazzi. Io ne sono quasi certo che l'acqua sarà una grande componente di questa nuova season che andremo ad affrontare. E un'altra... no! Sono finite le domande e quindi ragazzi sapete che ci sono le... sapete che quando si sono le mappe così c'è la terremoto news ragazzi. Le terremoto news ve la faccio già vedere ragazzi. La crepa numero 12 è apparsa. È apparsa oggi in live. Abbiamo sentito la scossa... ieri in live. Abbiamo sentito la scossa di terremoto che appunto ha fatto creare la dodicesima crepa proprio dietro al quartiere. Eccola qua ragazzi, la vedete in un'immagine un po' più interessante rispetto a prima. Come vedete, torniamo nell'immagine precedente, la crepa ragazzi va a formare un terzetto insieme alle altre due che quindi cominciano quasi a delineare quella porzione di mappa che forse potrà staccarsi. Ma andiamo avanti e chiudiamo ragazzi il nostro video news di oggi con un'altra immagine interessantissima relativa alla nuova skin Iconic. Non so se avete visto il mio video di ieri o se non lo sapete. La nuova skin Iconic sarà disponibile per tutti i possessori di un Samsung Galaxy S10+. Parliamo di un telefono da 1200 pleuri circa. Vi avevo dato due indicazioni nel video dell'altro ieri. Mi raccomando, dovrebbe esserci qualche modo per cercare di ottenerla un po' a Shgang Regal. Voi mi raccomando, andate a dargli un'occhiata. Questa invece è un'immagine che è stata trapelata e che potrebbe proprio fare parte di un futuro trailer per la skin Iconic. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo anche per oggi per aver guardato il mio video news. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Noi ci vediamo alla una in live. Ciao! Ciao!